Arcatura Lazio IGT cesanese. Arcatura deriva il suo nome da una località del comprensorio di Cori. Arcatura è ottenuto unicamente e esclusivamente da uve cesanese. Il metodo di vinificazione è una vinificazione in rosso con macerazione fermentativa leggermente più corta per esaltare i sentori di frutta del vino. Dal punto di vista olfattivo questo vino presenta i caratteri tipici del cesanese con un profumo di viola e frutta rossa al naso, mentre in bocca è morbido e avvolgente con un sentore di vaniglia. Si abbina molto bene con i primi piatti della tradizione romana e con carne alla griglia.